Abbiamo 3 gol di tazzo, per che cosa? Per non rimanere concentrato e cosa? Proprio dal 2 a 0 del primo tempo abbiamo subito 3 gol a ripetizione Che l'ha fatta? Abbiamo riaccorciato le distanze, 4 a 3 Michele Daniello Non c'è 2 senza 3 che ha realizzato questa rete Forza ragazzi! Dai ragazzi, su!